Nella prima fila accanto a noi, nella seconda, nella terza, c'è rimasto solo alcuni monconi di grappolo, ma il resto l'hanno mangiato tutto. Sono ancora iungulati il peggio rincubo degli agricoltori aretini. Le coltivazioni del territorio sempre più spesso stanno infatti diventando un vero e proprio banchetto per cinghiali, caprioli e daini. Dal grano al mais, dagli alberi da frutta e vigneti, interi raccolti messi a rischio dal passaggio, anzi dalle scorribande degli ungulati, come ci raccontano Stefano e Francesca Lombardi, padre e figlia, titolari di un'azienda agricola in Val D'Arno che da tre generazioni si occupa della produzione di vino. In 25 ettari di vigneto attualmente in produzione abbiamo considerato un danno di circa 100 quintali d'uva, quindi ai prezzi di oggi, 80-90 euro il quintale, abbiamo quantificato un danno di circa 8-9 mila euro, che non mi sembra un danno da poco perché ora dobbiamo iniziare una vendemmia, iniziamo già con 8 mila euro sotto, ci fa pensare anche se è possibile per noi continuare a lavorare in agricoltura o magari essendo giovane avere altre prospettive e decidere di cambiare completamente settore. Noi non sappiamo più dove mettere le mani perché a parte il danno dell'agricoltura è diventato veramente un problema sociale perché ci sono continui incidenti a causa degli ungulati. Io faccio un esempio stupido, in casa mia siamo 5 abitanti, 5 persone e tutti abbiamo avuto problemi con gli ungulati, quindi danni auto, incidenti anche abbastanza seri. Mia nonna addirittura è stata completamente caricata da un cinghiale, quindi si parla veramente di un problema non solo per il nostro lavoro in agricoltura ma di un problema sociale, dell'incolumità delle persone addirittura. Infatti non mi rendo conto di come non si riesca ad affrontare questo problema perché veramente si tutela più attualmente l'animale della persona. Di cosa ci sarebbe bisogno? Di cacciare seriamente, di mandare le squadre di cacciatori in maniera preventiva quindi dai primi d'agosto, mandare le squadre di cacciatori a fare cacciate normali come fanno tutto l'anno e uccidere individui. Perché se non uccidi individui la popolazione cinghiale è talmente cresciuta che non è più neanche sostenibile diciamo dalla natura ormai.